La scuola ha solo un problema, cioè gli ha l'unico che perde. Questa forse è la grande lezione che Don Milani e la scuola di Barbiana ci hanno consegnato oltre 40 anni, circa 40 anni dalla pubblicazione del libro Manifesto Lettera a una professoressa. In questi 40 anni è cambiata molto, è cambiata la società, è cambiato il modo di intendere la cultura, sono cambiati i rapporti, le relazioni. Ma forse una cosa che non è cambiata è il modo di fare scuola. Abbiamo ancora una didattica puremente trasmissiva, non in grado di valorizzare le intelligenze e multiple di cui Gardner ci parla e non in grado di valorizzare gli alunni più difficili, più complessi che inevitabilmente perdiamo. Io sono Simone Consignati, nel mio intervento presenterò alcuni dati di tutta scuola che è un'importante testata che si occupa appunto di scuola, dove proprio sottolineeremo quanto ancora troppi studenti sono smarriti nella scuola italiana e quanto ancora la didattica ha molto da lavorare, affinché tutti e veramente tutti possano essere inclusi e valorizzati nella scuola. Ci vediamo presto. Ehi, grazie.